Buongiorno a tutti. Allora, un uomo si è regata al dottore. Dice, dottor, è un periodo che mi sento fiacco. C'ho una fiacca, mamma mia. La mattina mi faccia il sammet al letto. Ma che c'ho? Io c'ho una paura. Dice, bene, si mette sul lettino, facciamo subito una visita accurata. Vediamo. La mette sul lettino. Cioè, allora, mi racconti un po' la sua giornata. Dice, vabbè, dottor, io faccio amore con mia moglie, non più delle tre volte al giorno. Ah, tutti i giorni. Cioè, sì, sì, tutti i giorni, più delle tre gna faccio a farla. Eh, vabbè, va bene, tutto qui. Cioè, no, veramente no, perché la mattina quando vado a lavorare con la mia segretaria, la mattina un'oretta di fuoco la trovo sempre. Ah, pure che la segretaria. Cioè, sì, sì, tutti i giorni. Bene, tutto qui. Cioè, no, no, quando vado a fare zumba al pomeriggio, c'è una ragazzetta, una biondina, damo certe ciancicate. Dice, ah, bene, allora, fa tre volte l'amore tutti i giorni con sua moglie. La mattina fa la bottarella di fuoco con la segretaria e il pomeriggio, eh, la ciancicatina con la biondina dopo zumba. Ho capito tutto, allora. Ah, dottor, e che c'ho? Dice, beh, lei fa sesso troppe volte al giorno. Ah, meno male, dottor. Pensò che era nei pippi. Ha!